Questa è la riunione con Robina, no? I Kazakistan, è stato un evento incredibile al suo punto. È stato un evento, una cosa... come va, come va? Tutto ok, tutto ok. Bravo, hai studiato Santa Miseria, perché in questi paesi dell'est c'è fame d'Italia, i Kazakistan hanno di noi una percezione dilatata, pensa che Kazakistan da Puro è alto un metro e novanta, Santa Miseria, tanto per dire. Senti, questa inverno abbiamo visto il concerto di Riccardo Fogli che festeggiava l'invasione della Grimea, non è stato un po' imbarazzante? Ma che? Qua è un rischio tutto italiano perché la Grimea se l'ha presa di Riccardo Fogli e Cotto Mutugno si è preso da Zeppagian, Alpano si è preso in Kazakistan, cosa si chiama Alpanistan, Santa Miseria. Senti, ma quando tornerai finalmente in Italia?